A Lanciano il progetto relativo alla costruzione di una serie di palazzine residenziali nell'area dell'ex Calzaturificio Torrieri è stato timidamente bocciato dalla soprintendenza che su 12 lotti previsti ha chiesto di rimodularne solo due che riguardano gli splendidi edifici dell'ex scuola Itis. Per il resto via libera con parere favorevole agli interventi edilizi proposti dalla ditta Gravina con una serie di edifici appunto ad uso residenziale tra loro lineari al massimo di quattro piani e di 12 metri di altezza. Si tratta di uno degli obiettivi che l'amministrazione Pupillo intende ultimare per restituire al centro cittadino un'area di pregio e dotata di servizi danno in completo degrado. L'intenzione è quella infatti di collegare il Central Park Pinovalente con tutta la zona in una sorta di cerniera tra le due parti della città. L'Associazione Ambientalista Italia Nostra però si oppone da tempo ad un progetto privo di lungimiranza e considerato solo come mera speculazione edilizia. Il presidente della sezione di Lanciano Pierluigi Vinci Guerra. Pare che la sovrintendenza si sia risvegliata. Si sia risvegliata non so fino a che punto perché le proprie prescrizioni che ha dato e ha mandato in comune con dei documenti ci si limita solo esclusivamente a due edifici cioè a due palazzine mentre le altre due restanti palazzine e loro dicono e affermano che va tutto bene cioè nel senso che non sono in contrasto con niente. Per cui questa già è una situazione paradossale perché qui parliamo di archeologia industriale e parliamo di che cosa? Parliamo di un'ampia area non parliamo solo esclusivamente dell'ex scuola di proprietà del comune ma parliamo di un'ampia area che aveva un'importanza fondamentale per Lanciano. E la sovrintendenza dice vabbè intanto adesso bisogna andare avanti però sotto la nostra egida e sotto il nostro controllo e quindi anche in base a quello che loro pensano loro dovranno cioè il comune e il progettista dovrebbe rivedere un po' tutta la situazione ma soltanto per due edifici. Allora io dico una cosa qui si sbaglia dall'inizio e quindi io non mi meraviglio più di niente non mi meraviglio più di questa amministrazione comunale che ha fretta di chiudere tutto e per dimostrare che cosa loro sanno fare. Loro non sanno fare niente perché questa è la dimostrazione che di urbanistica non ne capiscono niente. Se non esistono i presupposti essenziali quali una strategia a livello urbanistico e poi calarsi con un progetto di ampie vedute perché se voi leggete le relazioni e leggete la documentazione sono cose che fanno rabbrividire come possiamo noi andare avanti in questo paese. Oggi portiamo una mascherina ma questi del comune di Lanciano la mascherina se lo sono messi agli occhi di Lanciano la mascherina